Emma Quaglia, la Maratona di New York è sicuramente un evento estremamente affascinante che sicuramente però nasconde anche delle difficoltà. Ci vuoi raccontare insomma come intendere affrontare questa manifestazione? Sicuramente è un evento importantissimo, molto emozionante per noi corridori e quindi l'errore che si può fare è quello di partire un po' troppo forte, spinti dall'entusiasmo. Sono sempre 42 km, il percorso è insidioso perché ci sono parecchi saliscendi sul finale, il clima potrebbe essere un problema perché di solito è ventoso e a volte è freddo, io patisco il freddo quindi è un problema personale e quindi bisogna affrontare la prima parte con prudenza. E poi ci sono una serie di questioni logistiche diciamo legate al fatto che devi stare lì delle ore alla partenza, quindi portarsi delle cose, dei vestiti da buttare via, portarsi dei sacchetti della spazzatura da usare come diciamo impermeabile, un po' di cibo, un po' d'acqua, insomma le solite cose che un maratoneta dovrebbe conoscere. Ma dopo questa cerimonia si sente un po' di più la responsabilità di rappresentare la città di Genova? Ma sì, devo dire che è la prima volta che vengo chiamata alla vigilia di un evento importante, quindi questo mi inorgoglisce, già sono molto tesa, molto carica e molto determinata e l'idea di rappresentare la mia città a Genova oltre che l'Italia a New York mi riempie d'orgoglio, insomma mi fa sentire molto emozionata. Ti sei posto un obiettivo? Eh sì, beh certo, l'obiettivo del cuore sarebbe, non lo so, nelle 20, nelle 15, dipende un po' da che gara verrà fuori, sicuramente ci arrivo in ottima forma, non voglio essere superstiziosa, ho lavorato duro, sto bene, non so in che cosa si tradurrà in termini cronometrici o di piazzamento, però sono sicura che l'affronterò al meglio delle mie possibilità. A questi atleti dico che prima di tutto devono essere orgogliosi di se stessi perché stanno facendo una cosa che non è da tutti, seconda cosa, io ho fatto come dicevo l'atletica leggera, ho fatto alpinismo, adesso che non ho più il fisico faccio barca a vela, ma è sempre una prova di se stessi, non è solo competizione verso altri, ma è soprattutto competizione verso se stessi. Poi gli sport singoli lo sono ancora di più perché non sono sport di squadra, sono sport singoli dove uno veramente continua a sfidare se stesso ed è una cosa importantissima, quello che ho imparato io nello sport poi nella vita è la legge di tutti i giorni, quindi insomma lo sport è un ottimo sistema per educare i giovani, per far vedere che i giovani prendono la loro posizione nella società e soprattutto è un modo positivo di fare le cose. Ma è più dura guidare un comune o affrontare una maratona secondo lei? Bah non lo so, se non avete mai provato a affrontare una maratona, guardate che è dura, io adesso non dico niente, però mi ricordo che per me girare, io quando facevo i 1000 ai miei tempi avevo fatto 2,40 sui 1000 e mi sembrava di essere un eroe, invece voglio dire poi da maratona la girano a meno di 3 minuti al chilometro, cioè 42 volte quello che io facevo pensando di essere un eroe, non so se rendo l'idea, insomma, sono dei ritmi allucinanti solo a pensarci. Una persona normale nella maratona non regge forse i primi 300 metri, tanto per parlarci chiaro, quando partono, poi partono ancora più veloci in genere, dico bene? Già, per prendere posizione. Esattamente, reggere i primi 500 metri è già difficile, vedete un po', devono fare 42 chilometri e 195, quindi insomma non è una cosa facile e soprattutto poi l'altra cosa non facile è allenarsi, perché non è un evento che dura due ore e mezza o tre ore o cinque ore, è un evento che dura un anno, sei mesi almeno, per chi lo fa da dilettante, per loro dura da anni. Quindi bisogna imparare a gestire la cosa in tanto tempo, che non è solo un discorso fisico, ma come diceva lei prima è anche un discorso emozionale, cioè tu ti svegli alla mattina e pensi alla maratona, tu vai a letto a dormire e dici pensi alla maratona e così via, pensi a queste cose che devi fare in futuro. Sì, la maratona di New York è l'appuntamento principe che tutti gli appassionati del podismo attendono tutto l'anno, molti genovesi da anni partecipano a questo evento internazionale, il sindaco e l'amministrazione tutta ha voluto riconoscere a questi ragazzi e ragazze che parteciperanno quest'anno, riconoscendo loro una maglietta di buon auspicio che rappresenta la nostra città e il riconoscimento dell'amministrazione in questa impresa che comunque ha sempre del prestigioso, dell'affascinante, perché poi è un contesto molto particolare. Gli appassionati partecipano spesso con passione, in questo caso anche con delle risorse importanti perché il volo aereo costa comunque sempre molto e abbiamo voluto in qualche maniera riconoscere questi ragazzi e ragazze che parteciperanno e che porteranno in giro il nome della nostra città, un momento di riconoscimento. E' uno dei tanti segnali della rinnovata attenzione nei confronti del mondo dello sport? Questa amministrazione voi l'avete più volte sottolineato, siamo attenti al mondo sportivo, alle tantissime società sportive che fanno un grandissimo lavoro sul nostro territorio, abbiamo tantissimi atleti di pregio che devono essere valorizzati, vogliamo lavorare a fianco con queste realtà per dargli il giusto riconoscimento per questo mondo che dà tantissimo, soprattutto a ragazzi e ragazze, negli ultimi anni anche alla cosiddetta terza e quarta età.